un angolo dei tropici fra i rigori del clima nordico una signora svedese affassionata d'ornitologia ha riunito nella sua casa una bella collezione di uccellini esotici nelle gabbie dove nidificano in cassette di curiosa foggia i graziosi animali trovano nel calore della stufa un pallido compenso al gran sole del loro paese d'origine grazie